Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti anche questa sera alla nostra nuova puntata di Check-up Obiettivo Salute qui dai locali di Fisoradi Medical Center a Vismara di Pesaro, questo centro che è diventato nel tempo davvero un punto di riferimento per la salute cittadina. Oggi parleremo di una pratica medica davvero particolare, si chiama Agopuntura, sarà la dottoressa Agnese Fiorelli che è una dottoressa che vive in provincia di Pesaro, opera su davvero tanti centri sanitari dell'intera provincia viene qui a Fisoradi abbastanza spesso per affrontare tantissime tematiche legate alla salute. Oggi si occuperà nello specifico di ginecologia e affronteremo tutti quelli che sono i momenti che contraddistinguono proprio il ciclo vitale della donna secondo le pratiche della medicina cinese. Ce le spiegherà tra pochissimo la dottoressa Agnese Fiorelli. Ed eccoci qua in studio con la dottoressa Agnese Fiorelli. Buonasera dottoressa. Bentrovati, buonasera a voi. E' tornata anche quest'anno al nostro appuntamento con CECAP Obiettivo Salute qui dagli studi di Fisoradi perché vedete in realtà abbiamo fatto questa serie di interviste in questo piccolo studio la dottoressa Agnese Fiorelli che è una specialista in Agopuntura. Questa pratica così particolare ma anche così io credo importante da conoscere dottoressa. Esattamente. L'agopuntura può affrontare tantissimi temi della medicina. Noi oggi parleremo di ginecologia e quindi come applichiamo l'agopuntura con la ginecologia, dottoressa? Allora innanzitutto inizio sottolineando che ho deciso di approfondire questo argomento perché negli ultimi anni è sempre stata crescente la domanda rispetto al trattamento di varie patologie ginecologiche con l'agopuntura da parte di pazienti sempre più numerose per patologie sempre diverse tra loro in epoche della vita molto differenti tra loro. Quindi per comprendere meglio che tipo di patologie si possono trattare efficacemente con l'agopuntura voglio approfondire un attimo quello che è l'approccio della medicina tradizionale cinese al ciclo vitale femminile. Intendo dire questo. In medicina cinese si afferma ormai da millenni che la nostra energia si rinnova completamente in cicli vitali di otto anni per l'uomo e di sette anni per la donna. Questo è stato poi avvalorato anche dalla moderna biologia che ha sottolineato e è andata a studiare come ci sia un completo rinnovamento di tutte le cellule del nostro organismo fatta eccezione chiaramente per quelle del sistema nervoso centrale con un ciclo vitale di circa sette anni. Cosa succede quindi? Al complimento di ogni settimo anno il nostro corpo fisico verrà completamente rinnovato e ricostituito sulla base di determinati tasselli di mattoncini che noi gli avremo fornito nel frattempo. Questi mattoncini saranno dettati dal nostro stile di vita, dalla nostra alimentazione e non in ultimo anche da quello che è tutto il vissuto emotivo che ci portiamo appresso. Dottoressa faccio una piccola parentesi, non è che sarà per questo che si dice che l'amore dura sette anni? No, ci può stare. La crisi del settimo anno no. Un cambiamento fisico e anche psichico di accompagnamento. Allora cosa succede? Che sarà proprio su questi tasselli che noi potremmo intervenire anche grazie all'agopuntura perché potremmo intervenire su quel cosiddetto cielo posteriore in medicina cinese che è dato da tutti questi tasselli, da queste modifiche sull'alimentazione, sullo stile di vita, sullo stress, sulla componente emotiva che saremmo noi a delineare durante il corso della nostra vita mentre non potremo mai intervenire su quel cielo anteriore, cioè il DNA, su quel background genetico che ci hanno dato i giusti genitori e con i quali siamo venuti al mondo. Allora, negli antichi testi si delinea esattamente un percorso, quindi una serie di cambiamenti specifici dall'età, dalla nascita, ai una volta sette anni, quindi l'età della bambina, fino a sette volte sette anni, 49 anni, che siamo quell'età in cui ci affacciamo alla menopausa, quindi alla fine di quella vita feconda e fertile della donna. In breve, diciamo che questi cambiamenti verranno accompagnati da quello che è il normale fisiologico invecchiamento e saranno sia fisici che anche psichici e spirituali. Ecco allora che se a sette anni abbiamo l'affiorare di questa energia vitale del rene per cui iniziano a fortificarsi i denti, i capelli si allungano, a 14 anni inizia la fase feconda, quindi nelle bambine, spesso adesso anche prima, inizia il primo menarchi, i primi cicli mestruali. A 21 e a 28 anni questa energia del rene sarà sempre più piena e quindi ci sarà al massimo la pienezza dello sviluppo muscolo-scheletrico, dei capelli, dei denti, comunque anche di quella fecondità che delinea in natura il periodo più proficuo e più prospero chiaramente anche per il concepimento. Arriveremo già ai 35 anni, quindi 5 volte il ciclo vitale di 7 anni, dove invece l'energia digestiva diminuirà, conquista l'energia un pochino di tutto l'organismo e quindi compariranno le prime rughe, i capelli tendiranno a indebolirsi. A 42 anni questo processo sarà ancora più evidente, tutte le energie dei meridiani yang della parte alta del corpo si indeboliranno, quindi la pelle comincerà a vizzirsi, i capelli ad imbiancarsi e a 49 anni saremo alla fine di questo percorso di fecondità. Quindi è chiaro che, detto in breve, all'interno di tutto questo percorso si potranno delineare dei disequilibri delle situazioni patologiche su cui l'agopuntura potrà andare ad intervenire. Ed è proprio su questo che volevo intervenire, dottoressa, ma quali sono le principali patologie che noi possiamo curare con l'agopuntura nel corso di questi cicli di cui ha parlato adesso? Allora, torniamo a questo filo conduttore di cui abbiamo appena parlato, partendo dal 2 volte 7 anni, quindi dal 14esimo anno, comparsa, già avvenuta spesso adesso anche nell'età più precoci, del primo ciclo mestruale, Menarca. Questo ciclo mestruale è frequentemente accompagnato da una prima fase di irregolarità, tende a regolarizzarsi spesso nel corso del tempo. Questo non succede invece in molte ragazze in cui si ha irregolarità mestruale, in cui si ha dismenorrea e una sindrome premestruale molto forte, molto invalidante. Alle volte ragazze o donne giovani stanno a casa da scuola o dal lavoro proprio per via di questa dismenorrea. Dismenorrea potrà essere primitivo o secondaria, anche qui l'anamnesi va da sé che sarà il passo fondante per capire l'origine di questa dismenorrea. Andando avanti, parleremo poi di amenorrea. L'amenorrea evidenzia l'assenza di ciclo mestruale per un periodo protratto di tempo. Spesso questo avviene nelle giovani sportive, con un'attività molto intensa. Avviene alle volte accompagnato da disturbi del comportamento alimentare, spesso proprio in queste fasi dello sviluppo. Avviene ad esempio dopo l'assunzione per lungo tempo di metodi contraccettivi di pilola anticoncezionale e quindi ci sono periodi di amenorrea. Polimenorrea è invece il problema opposto, quindi cicli subentranti anche due volte al mese che hanno quindi la loro conseguenza anche dal punto di vista dell'anemia e di determinati squilibri fisici che possono indurre a livello del sangue. Arriveremo alla fase della cosiddetta fita feconda, quindi spesso si trova un concepimento, ma la ragazza che viene da me, la giovane donna, lamenta una poliabortività, quindi spesso alla prima gravidanza si evidenza questo problema di poliabortività. Si ha poi la gravidanza conclamata e lì va da sé che è importantissimo poter intervenire su determinati disturbi senza fare uso di farmaco. In questo l'agopuntura chiaramente ha elemento fondante perché non usa farmaco. Quindi iperemesi gravidica, quindi lombalgie, insonnie durante la gravidanza, malposizionamento fetale durante la gravidanza, accompagnamento della donna al normale parto, oppure induzione e facilitazione dell'induzione al parto qualora si sia superato il termine. E poi ci sono altri disturbi che vengono al di là della gravidanza, soprattutto connessi alla sfera psicologica, quindi la depressione post partum, disturbi della lattazione. Altra grande categoria che poi vorrei approfondire un pochino è invece il disturbo legato all'assenza del concepimento, quindi la problematica dell'infertilità. Sì, perché infatti lei ha accennato già al discorso legato alla gravidanza, ma esistono tante situazioni nelle quali questa gravidanza non arriva. Esattamente. Questo è un problema sempre più rilevante. dato attuale è che circa il 15% di coppie in età feconda è infertile. L'OMS sottolinea e evidenza che l'infertilità è intesa come assenza di concepimento dopo tentativi mirati, protratti per almeno 12-24 mesi. Cosa succede? Che la paziente che arriva o la coppia che arriva ha già affrontato normalmente un corollario di esami, di approfondimenti, di visite ginecologico-andrologiche che portano alle volte al riconoscimento di una causa ben specifica. Nel 55% dei casi circa la problematica origine femminile. Qui possono essere diversi fattori. Un fattore fondante adesso è la ricerca di una gravidanza in età sempre più avanzate della vita. Quindi la riserva ovarica è un dato oggettivo. Se ha una ridotta riserva ovarica, una ridotta qualità ovocitaria. D'altronde l'ha detto prima che forse il terzo o quarto ciclo fra i 21 e i 28 anni è quello più propizio. Questo lo sarebbe. Chiaramente nella vita sociale, nella vita di oggigiorno invece, tendiamo sempre più a procrastinare la ricerca di questa gravidanza, rendendo la cosa spesso più complessa. Allora, questo è un grosso capitolo. Ci sono poi donne in cui ci sono delle problematiche organiche effettive, quindi disturbi a livello di ostruzione delle tube, infezioni ricorrenti, policistosovariche, endometriosi. Alle volte, invece, sia nell'uomo che nella donna non ci sono cause organiche ben definite. Nell'uomo spesso si ha un'alterazione della componente spermatica, la mobilità, il numero degli spermatozoi. Molto spesso, però, sia nell'uomo che nella donna è lo stile di vita che ha veramente un'importanza fondante. Intendo come stile di vita l'alimentazione, intendo l'abuso di farmaci, di alcol, di droghe. Intendo anche e soprattutto quello che è il vissuto emotivo, che può generare dei veri e propri traumi, dei veri e propri blocchi, che fanno sì che non si arrivi al concepimento, anche se poi da tutto questo insieme di corollari e di analisi che si è fatto non emerge veramente una causa organica. E su questo va a intervenire molto bene l'agopuntura. Allora, quello che sottolineavo e che sottolino sempre, che si fa prima un'anamnesi a tutto tondo, sia sulle cause, sia sullo stile di vita, che sull'alimentazione. Si va a individuare a che punto ci troviamo, se la donna o la coppia può ricercare la gravidanza in maniera naturale, se si trova in questa possibilità. Se invece lo può fare solo in accompagnamento a metodiche di procreazione medicalmente assistita, che siano fivet, omologhe, eterologhe. E l'agopuntura aumenta la probabilità di concepimento in tutte queste soluzioni di cui stiamo parlando. Aumenta soprattutto regolando il ciclo mestruale, lavorando su quella che è la stimolazione ovarica, riequilibrando i fattori ormonali che ci sono alla base, quindi FSH, LH, prolattina, gli ormoni legati allo stress, lavorando sull'endometrio, quindi miglioriamo lo spessore endometriale, la vascolarizzazione dell'endometrio, creiamo quel nido, quell'ambiente, che sia il migliore possibile e il più proficuo per crearsi e l'attecchimento di una nuova vita, sempre con un percorso cucito addosso, chiaramente, alla persona e alla coppia. Sì, in poche parole la dottoressa ci ha davvero spiegato come l'agopuntura racchiude diverse pratiche in una sola della medicina, perché qui si parla di terapia vera e propria, di un approccio terapeutico per affrontare un problema, ma anche proprio di una ricerca delle cause, di un confronto psicologico con le persone, quindi veramente è una concezione di medicina molto molto moderna, dottoressa. Sì, è sempre un approccio a tutto tondo, quindi va delineato e va cucito addosso alla persona, al paziente, un approccio terapeutico che sia singolare e che comprenda tutti gli aspetti, dall'aspetto puramente organico, all'aspetto dello stile di vita, all'aspetto della nutrizione, non tralasciando nessuno di questi fattori, quello emotivo e psichico in primis. Grazie dottoressa, è stata davvero molto 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 interessante quello che ci ha detto, la ringraziamo davvero a nome dei nostri telespettatori che salutiamo. Grazie a voi. E rimandiamo alla prossima puntata, state sempre con Rossini TV, buona serata a tutti. Grazie a tutti.